Signori buongiorno, benvenuti in questo nuovo video Innanzitutto ringrazio il mio cameraman Giacomo Lovigi Seguitelo su Instagram, piaccio da Giacomo-Lovigi Oggi faremo un video che non si è mai visto su Youtube Italia Ovvero, scempiremo la macchina di post-it Procediamo andandogli a comprare, venite con noi Signori, siamo appena tornati, abbiamo comprato 4 pacchetti da 100 E nulla, procediamo a spostare il panda Non mettiamo più al centro, così andiamo meglio a lavorare E poi li applicheremo Ci ha raggiunto anche il cameraman Possiamo procedere a riempire la macchina di gamma con 400 post-it Signori, scusate l'interruzione Questa clip e video la stiamo registrando a quasi fine dell'opera Voi la vedete ora, perché oggi 17 settembre è l'anniversario dei miei genitori E perciò abbiamo deciso che questa scherzo cavolata che stiamo facendo La facciamo diventare una sorpresa Infatti faremo una specie di cartellone magari con scritto tipo Buon anniversario a mamma papà Ovviamente Giacomo non c'entra niente, però mi darà una mano a farlo E nulla, godetevi il video, buona visione Prego, prego, lavori, faccia il suo lavoro Prego, prego, lavori, faccia il suo lavoro Ah, è un'altra premessa Non faremo i finestrini Perché abbiamo paura che la colla magari ci attacchi Dopo rimane casini vari Evitiamo Qui faremo il cartellone Mettine anche uno di arancione a sto punto Qua, staccalo da qua, dai, ci ne sentiamo Hai fatto anche questo cuore qua Carino Però potremmo farlo col penarello indirribile tipo nero Così si vede di più Sì, dai, ci sta, provo Lo faccio però esterno ancora Sì, provo Quindi viene doppio tipo Sì, provo, esatto Signori, bentornati Oggi è il giorno dopo Siamo appena tornati da scuola Abbiamo finito di sistemare le ultime cose Abbiamo messo qua il cartellone Abbiamo sistemato tutti i bigliettini Abbiamo messo la macchina al centro qua E nulla Ora un po' di riprese cinematografiche Alla prossima GONDI E' MFORO PANDA La bandierina anche Mi piace Sto parlando in chassano però Sono colorata Tutta ieri Sì, dai, favo un giro No, l'abbiamo solo spostata qua avanti indietro. Ciao Maria! Ciao. Pia è per te dietro, vieni qua. Terzo figlio maschio femmina. Nessun fratellino quindi? No, no. Un altro cagnetto su te voi. Ok. Adesso ti voglio toglierli tutti. Questo è il vostro lavoro. Il bello è che l'inizio è nato come scherzo, vogliamo fare questo scherzo. Oggi è l'anniversario, facciamo le sorprese. Abbiamo messo i cartelloni, abbiamo fatto i cosi e auguri. Che bella. Ecco perché a te il camera Gerardo. Bene, siete felici quindi? Sì, grazie. Auguri. Invece che giocare o studiare. Studiare? No. Meglio. Ma questa è la mia. Ciao. Ciao, ciao. 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 Grazie a tutti.